In Toscana la popolazione è sempre più anziana, tra i nata dagli stranieri che sono l'11% del totale e la speranza di vita, 81 anni per gli uomini e 85 per le donne, è di 6 mesi superiori a quella italiana. Insomma i toscani stanno bene, sono alcuni dei dati emersi nel rapporto 2017 Welfare e Salute della Regione Toscana presentato a Firenze che riunisce in un volume, Esperienza Unica in Italia, la relazione sanitaria, il profilo sociale e la valutazione del sistema sanitario toscano. Ci disegna una Toscana nella quale si vive di più, il tasso di mortalità scende così come il tasso di mortalità infantile, una Toscana nella quale si mangia meglio, nella quale si fa più sport che in altre regioni, nella quale la spesa sociale dei comuni è più alta della media nazionale e nella quale il sistema sanitario che già è ai vertici sia per i livelli essenziali di assistenza sia appunto per le performance misurate da Tor Vergata e continua ad avere un miglioramento. Tra i dati salienti è anche l'aumento dei livelli di adesione a 24 mesi di vita alla campagna di vaccinazione, il calo delle malattie respiratorie e dei tumori causati dal fumo e sul piano sociale l'investimento totale di 476 milioni dei comuni toscani nei servizi sociali, 127 euro a cittadino contro i 114 spesi a livello nazionale. Grazie. 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 Grazie.